Per questo dolce molto semplice, molto goloso, ci occorreranno 200 g di crema di latte, del cacao in polvere, 4 pacchetti di pavessini, una tazzina di caffè zuccherata allungata con un po' di acqua, una teglia rivestita con della pellicola alimentare della lunghezza di 16 cm e, se desiderate una parte croccante, un po' di cioccolato in pezzi. Andiamo innanzitutto a rivestire tutta la nostra teglia, sia sul fondo che lungo i bordi. Quindi bagniamo velocemente i pavessini e posizioniamo lungo i bordi. Compiuta questa operazione, andremo a distribuire la nostra crema di latte. Il link per realizzare questa golosa crema, molto delicata, ve la lascio sia in descrizione che in alto al video. Se desiderate una parte croccante, andremo a grattugiare un po' di cioccolato, questo è al gusto gianduia. Cospargiamo con un po' di cacao amaro. Completiamo l'opera posizionando sulla superficie altri pavessini imbevuti in caffè. Non ci resta ora che richiudere la pellicola e mettere in frigo per qualche ora. La nostra mattonella dolce alla crema di latte è pronta. Dopo qualche ora andremo a togliere il nostro dolce dalla pellicola e a posizionarlo su un piatto da portata. Se vi piace potete spolverizzare il vostro dolce con un po' di cacao amaro. Ed ecco pronto il nostro dolce. Se questa idea vi è piaciuta, io vi invito a lasciare un like, un commento, a condividere il video o a iscrivervi al nostro canale se ancora non lo siete. Alle prossime ricette, noi vi salutiamo. Ciao a tutti! Ciao a tutti!